ragazze buonasera allora sono al negozietto della mia amica che è un amore lo sapete vintage 21 la pagina che voi dovete cercare su instagram in cance si chiama vintage palermo 21 allora ora entriamo e ci facciamo un giro intanto guardate qua che carino questa con è questa camicetta cappellino con veletta ha un sacco di merce ci sono clienti che stanno dando un'occhiata ma ci sono tutte le borse le scarpe e siamo proprio nel cuore di palermo del centro storico in corso vittorio emanuele infatti qua passano solamente turisti guardate questo secchiello che dolcezza anche questo guardate questa borsa rossa con questi foulard siamo proprio nel centro storico che cosa più va... e allora calcchè 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 allora ragazze ho fatto questo piccolo video dalla mia amica ora vi faccio passeggiare il percorso Vittorio Emanuele questa è tutta la zona turisti guardate che bello questo negozio, i gioielli del sole guardate che belle cose i gioielli del sole e quindi quando io vengo praticamente qui a passeggiare mi sento turista giustamente mi sento una turista pure io guardate opera dei pupi, teatro argento qua ci sono le marionette proprio io adoro, adoro passeggiare qui in Corso Vittorio Emanuele perché proprio mi sento una turista ecco ora qui comincia il sole noi diciamo a picco quando c'è questo sole così che picchia noi palermitani diciamo il sole a picco e qui c'è la maestosità della cattedrale ragazze non vi potete lamentare avete visto che vi faccio vedere per chi ancora non conosce non ha visto la cattedrale ve la faccio vedere mamma mia ragazze per esempio io penso che questo povero cagnolino si sta bruciando le zampine dicono sempre che quando c'è questo asfalto così questo caldo i cani si possono bruciare le zampine io glielo andrei a dire alla signora signora stia attenta che il canuzzo si brucia le zampine guardate che bella questa ragazza bellissime ragazze avete visto io quando vedo belle ragazze lei filmo non solo i maschi l'importante è che siano cose belle da vedere e quindi siccome quelle erano due bellissime ragazze io le ho filmate io amo il bello tutto ciò che è bello maschi, femmine signori, anziani purché siano belli bar, turisti una colomba questa è tutta la cattedrale però vedete già magari così che non c'è il sole che mi picchia in testa la posso riprendere meglio ok ragazzi allora io adesso chiudo sto andando incontro a mio marito che mi aspetta a un certo punto della strada perché qua non si può entrare questa strada è chiusa al traffico tutto Corso Vittorio Emanuele è zona pedonale e quindi non si può entrare ragazzi allora chiudo e vi carico questo video al più presto e ci vediamo domani mattina ciao